Finalmente. Dopo circa 30 anni, le famiglie che abitano in un complesso di palazzini al quartiere San Paolo, al prolungamento di via delle regioni, avranno l'allaccio alla rete del metano. A sollevare il caso era stata Antenna Sud nello scorso febbraio. Ora, anche grazie ai nostri servizi, l'Istituto Autonomo Case Popolari ha deciso di intervenire. I lavori sono iniziati proprio in questi giorni e il prossimo inverno i residenti potranno fare a meno di stufe e più moni. Soddisfatto anche il presidente dell'OIACP, Sabino Lupelli. Sì, specifichiamo che i 30 anni non dipendono dalla nostra gestione, perché questo è un patrimonio che abbiamo preso in gestione da suoi cinque anni. E specifichiamo altresì che queste erano situazioni che a Bovigine non erano previste, cioè non c'era un guasto o un problema di carattere tecnico, ma era una parte del patrimonio che non era servita né dalle montanti del gas e quindi di conseguenza neanche dagli impianti. Per fortuna abbiamo subito fatto un intervento su un lavoro già preordinato con una perizia di variante e, come credo abbiate firmato anche voi, mi sono raccomandato che l'impresa iniziasse subito i lavori di queste montanti che sono già in corso.